Un anno che si conferma positivo e pieno di soddisfazioni per lo sport partenopeo. Ai meritati successi del calcio Napoli seguono i riconoscimenti anche per la squadra rosa Carpisa Yamamai, che dopo oltre 20 anni riporta la città nella Serie A1 di calcio femminile. Un risultato frutto di una lunga programmazione che vede le ragazze dell'allenatore Peppe Marino già in corsa per restare stabilmente nella massima serie e puntare al vertice nei prossimi anni. Questa mattina in comune, alla presenza dell'assessore allo sport Giuseppina Tomasielli, la squadra è stata premiata dal sindaco De Magistris, che si è soffermato anche sulla possibilità di uno stadio da destinare al calcio femminile. Noi adesso stiamo facendo il progetto per lo stadio nuovo. Se passa l'idea, però questo ancora non si sa, lo sapremo dopo l'estate, che c'è uno stadio nuovo per il calcio Napoli maschile, lo stadio San Paolo che sarà comunque ristrutturato, sarà destinato alle altre discipline sportive, tra queste anche il calcio femminile. Però siccome qua ci vorranno 4 anni comunque per fare tutto questo, l'idea che più mi viene in mente, che bisognerebbe realizzare, è lo stadio Collana. Che noi abbiamo uno stadio Collana che adesso con l'assessore allo sport stiamo lavorando per far partire i lavori, che partiranno entro l'anno, quindi l'idea è quella di rendere il Collana molto più efficiente di quello che l'ho stato finora e penso che quel campo, se loro sono d'accordo, poi bisognerebbe chiederlo a loro, potrebbe essere destinato al calcio femminile.